Nel 2011 in Abruzzo sono state riciclate 110 tonnellate di alluminio, il 22% in più rispetto al 2010, percentuale che colloca l'Abruzzo in linea con la media nazionale. I dati sono stati resi noti dal Cial, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio, uno dei sei consorsi di filiera obbligatori, mentre il coordinamento generale degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio è svolto dal CONAI, con cui la regione Abruzzo ha siglato uno specifico protocollo d'intesa. La novità di quest'anno è rappresentata da Obiettivo Alluminio, concorso borsa di studio realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge gli studenti delle scuole superiori sui temi della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo. Gli studenti si metteranno alla prova come giovani videomaker, realizzando filmati sul mondo dell'alluminio che li circonda e ha messa ogni forma di espressione, dal linguaggio giornalistico al cinematografico al musicale. Saranno coinvolte tutte le scuole superiori di Abruzzo, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Sardegna. I video presentati alla commissione esaminatrice potranno essere inviati o caricati direttamente sul sito web www.obiettivoalluminio.it entro il 18 maggio 2012.